I canti da preghiera sostengono il Papa in questo pellegrinaggio apostolico. Qui siamo al centro Betlemme, dove le sole della carità aiutano i bisognosi e fino a poco fa qui si è pregato il rosario sul muro della struttura campeggia, una scritta, non dimentichiamo di pregare per lei. Questa casa sorge in un quartiere costruito sotto il comunismo tra gli anni 70 e 80. Alcuni lo chiamavano il Bronx di Bratislava, oggi è un centro di speranza, segno dell'amore di Gesù. Non sono previsti i discorsi, il Papa entrerà nella struttura, abbraccerà i residenti, le suore di Madre Teresa. Fuori ci sarà questa accoglienza di tanti fedeli venuti a salutare il successore di Pietro. A voi studio!